L'associazione Casco opera sul territorio del centro storico di Cosenza da due anni. Incontri ed iniziative sono state promosse per stimolare il dibattito e mettere insieme una serie di idee per il rilancio della parte storica della città. Tra le tante, quella riguardante il bando regionale in favore di attività extra alberghiere e di ristorazione, servizi culturali e turistici che potrebbe insieme ad altre iniziative favorirne la ripresa. Quindi svolge una funzione di informazione ma anche di aiuto rispetto ai cittadini perché possano rappresentare le proprie idee, le proprie priorità, le proprie criticità i cittadini del centro storico direttamente all'amministrazione regionale che ha una sua strategia per il centro storico di Cosenza che vediamo svilupparsi ad ogni incontro e che tutti quanti speriamo possa portare alla rinascita del centro storico. Una strategia, quella del rilancio del centro storico di Cosenza, che prevede due direttive ben precise che se attuate potrebbero far rinascere uno dei borghi antichi più belli d'Italia. In questo momento si compone, a mio modo di vedere, dal pilastro centrale che è questo dei 90 milioni che il presidente Oliverio ha ottenuto dal Cipe l'anno scorso e poi è coadiuvata da altre strategie prettamente regionali che sono i bandi che vengono fatti con i finanziamenti europei ma anche, non dimentichiamoci, il primo piano paesaggistico della regione Calabria è l'agenda urbana che sono due grandi matrici che si innestano insieme ai 90 milioni ai bandi, quelli già usciti e quelli che usciranno, a dare possibilità ai cittadini del centro storico di non solo ristrutturare gli edifici ma anche finanziare le proprie idee che poi sono quelle che devono essere il motore del centro storico. Inoltre Francesco Alimena ha provato a chiarire anche di come saranno impiegati i 90 milioni di euro erogati dal Cipe in favore del centro storico di Cosenza. Cosa se ne farà? Lo abbiamo detto allo scorso appuntamento di Casco cioè ci sarà un CIS, un comitato istituzionale di sviluppo composto da regione, enti locali, provincia e comune ordine degli ingegneri, ordine dei geologi, ordine degli architetti, unical, quindi soggetti scientifici che faranno un progetto sul modello dell'urban center quindi in più fasi per la parte strutturale, sottoservizi, inclusione sociale e poi parte immateriale e da come la regione si è espressa all'incontro presente la volontà è quella che i cittadini presentino i propri progetti di modo che gli stessi bandi regionali che poi serviranno a utilizzare i 90 milioni e addirittura la progettazione sia fatta d'accordo con i cittadini su progetti presentati dai cittadini.